come cominciano allora ragazzi iscrizione al canale gratis e campanellina scriviamoci al canale anche perché a breve qui ci si diverte purtroppo permettetemi di dire ci sono delle persone su youtube che non conoscono la vergogna che non hanno dignità che ora vogliono passare anche per credibili dopo aver insistito per gli americani per più di un anno dopo aver detto che non esisteva nessun arabo che l'inter non sarebbe mai andata a nessun arabo e ora te le ritrovi a parlare di Qatar di Emirati di Inverscore sono loro ci vorrebbero fare le pulce a noi tra l'altro attenzione perché questi scome non conoscono la vergogna non hanno dignità vorrebbero fare le pulce ad un canale come il nostro dove dove puntano finanziamento dove noi abbiamo sempre detto abbiamo spiegato il promissario acquirente e via riscorrendo no che come ha detto Carlo Festa sei mesi fa dopo un anno e mezzo che lo dicevano gli esonerati che Oc3 concede il finanziamento a Zang perché ha già il compratore lo ha detto il sole 24 ore quindi mettetevi d'accordo solo 24 ore è un giornale serio oppure no il discorso sa qual è che gli altri gli americani soprattutto vedi loro loro che ora si sono messi in turbante questa gente che gioca facile sai perché perché hanno sparato talmente tanti nomi e località di tutto il mondo che alla fine forse faranno il nome giusto anche se ad oggi non ci sono riusciti capito loro l'unica osa giusta che stanno dicendo dopo averci offeso e dopo aver detto che non esistevano arabi è proprio la parola arabi è l'unica osa giusta che loro stanno dicendo per quelli che ci attaccano dicendo che noi abbiamo detto che sono già dentro forse ragazzi qualcuno di voi ha sbagliato canale in questo canale sono già dentro non è mai stato detto perché è stato fatto un discorso molto molto più articolato del dire sono già dentro e di speculare su youtube su un argomento come fanno altre persone perché noi su questo discorso degli arabi non abbiamo mai speculato facciamo una live ogni tre mesi ormai sulla proprietà di cosa vuoi ragionare sono già dentro te lo ripeto hai sbagliato canale non è questo il canale ha detto che sono già dentro e questa è una roba e devo sottolineare devo evidenziare la devo evidenziare questa roba qui questa è una roba che va evidenziata sono già dentro hai sbagliato canale perché nell'attacco c'è stato a noi il canale che dava più noia in assoluto perché era quello più preparato quello più professionale quello che anticipato il new york times di un anno davamo noia è stato fatto un discorso molto più articolato perché ormai è diventato un pollaio no con questo discorso degli arabi del promissario acquirente garante è quello che abbiamo sempre detto noi e che non ci rimangeremo mai abbiamo parlato di consorsi in questo canale abbiamo parlato di consorsi kuwait airways nome fatto otto mesi fa nessuno al mondo aveva fatto il nome di kuwait airways come sponsor dell'inter punta ad essere main sponsor non sarà sponsor dello stadio te lo dio subito perché siamo stati gli unici a fatti questo nome katarioti abbinati ai sauditi qualche piccione americano non sapeva che già uno sponsor katariota aveva sponsorizzato per anni una squadra di calcio saudita perché questi parlano ma non sanno nulla promissario acquirente del pic bond e non ce lo rimangiamo per noi c'è stato sì perché altrimenti zang non aveva le garanzie perché secondo noi o tri ha sottoscritto il payment in kind ora te lo ridico tutto per benino che aveva già delle garanzie del collateral che venivano dal promissario acquirante non me le rimangio queste cose anzi non ce le rimangiamo le garanzie come ti stavo dicendo prima offerte da zang per la sottoscrizione del pic bond non erano sufficienti e te lo dimostreremo anche perché non erano sufficienti non erano sufficienti le garanzie che che dava zang c'è stato sicuramente qualcuno e le ha irrobustite queste garanzie da fornire ad optree ed è stato il promissario acquirente l'hai capita ora oppure no parlo al piccione non parlo a voi ragazzi sto parlando al piccione tra l'altro senza entrare in tecnicismi e cose troppe troppo complicate vengono concessi dei pegni sull'inter vengono concessi dei pegni sull'inter sapendo che l'unica polpa dove attaccarsi è rappresentata dal marchio e da parte dei ricavi che il discorso dei ricavi parte delle gran parte dei ricavi è bloccata a favore degli obbligazionisti ma di cosa volete ragionare continuate a parlare di burger king di amazon di oracle silver lake quell'altro e manda che un rio l'unica rabbia saudita ma dove voi andare avete la faccia come il culo siete ridicoli ora volete sembrare anche credibili avete stancato voi dovete tifare la juve non l'inter gli interisti non sono come voi gli interisti hanno dignità voi siete gente senza dignità alcuna che ho fatto e qua ci siamo addio a del reto crescita lo stesso ornato vi c'è stato preso perché l'inter ha potuto accedere al reto crescita motivo per cui è stato scartato morata no perché morata te lo stava 12 milioni di stipendio ora hai pavard hai turam hai lo stesso arnautovic che ti costa 6 milioni all'anno di ingaggio addio del reto crescita retroattivo è finita ragazzi non ci sono già non c'erano soldi prima pensate ora io capisco che chiunque ormai senta la parola cina abbia i coglioni pieni ragazzi io vi capisco ma questo sponsor delle auto cinese è uno sponsor per un anno sono accordi vecchi lo stesso magari sono accordi vecchi ma non conta nulla anche qualora fossero degli accordi nuovi perché lo stesso newcastle ha degli sponsor cinesi ma di cosa vuoi ragionare per quello riguarda poi il Diego Costa del discount chietta remi lo lascerei lì perché se solo ci fosse minimamente la possibilità di riportare Mauro Icardi all'inter lo vado a prendere io anche se anche a me è rimasto sui coglioni ve lo è affatto ma abbiamo perdonato di peggio con miglio verde lucaco attenzione è stato fatto di peggio all'inter perché è stato portato il giocatore più odiato dai difusi dell'inter che è il ricciolone quadrato di cosa vogliamo ragionare ragazzi bisogna essere onesti forza bisogna essere onesti t'hanno portato quadrato t'hanno riportato lucato che ti ha fatto salutare a pastorello e ora si fa le pulce ai cardi quando via tra un po' non pagheranno più nemmeno gli stipendi per modo di dire ma di cosa ragioniamo se a gennaio c'è la possibilità di riprendere i cardi te lo riprendi non me ne frega una sega a me che ha fatto vandanara non mi importa nulla a me l'importante è che faccia gol tanto questi parlavano di moralità di etica e t'hanno portato quadrato quindi possono riprendere i cardi perché io è posto di due pensionati lo riprendo i cardi per il bene dell'inter magari ingoio un boccone amaro se proprio lo vuoi sapere sono tornato dalla trasferta di lavoro giusto dove sei tutto a posto ragazzi ogni tanto vado in trasferta per il lavoro sono tornato prima di pranzo e ora oggi riparto magari stasera dall'hotel faccio un altro video ciao inter